Ma la polemica che nasce oggi assolutamente mi sorprende nella misura in cui le condizioni del servizio sono esattamente quelle che avevamo concordato con i consiglieri e con i gruppi del territorio. Sono consapevole che dati i vincoli di bilancio e date le caratteristiche della domanda il servizio non trovi grande adesione, ma esattamente quello che ci aspettavamo. Il vice sindaco e assessore alla mobilità Arturo Lorenzoni lo dice apertamente, il riinserimento del bus circolare Arcella è stato un flop e per Palazzo Moroni non è una sorpresa. Lo stop alla sperimentazione potrebbe diventare anche un caso politico, visto che la linea era stata chiesta a gran voce dal consigliere di maggioranza Luigi Tarzia, spesso in contrapposizione con coalizione civica. Da parte sua il consigliere della lista Giordani attacca i vertici di bus Italia Veneto, rei di non aver creduto nel progetto e di non averlo sostenuto a sufficienza con orari adatti all'utenza. Resta il fatto che da dicembre la linea non sarà più coperta. Lorenzoni sottolinea come l'Arcella sia comunque servita da più linee e dal tram. Il quartiere Arcella dispone del tram, della linea 24 e della linea 15, che tutto sommato riescono a coprire una buona parte del quartiere, che è vero che è uno dei quartieri più popolosi, ma è anche uno di quelli che ha il servizio di trasporto pubblico più capillare. Io veramente mi auguro che le persone si rendano conto che l'amministrazione sta facendo il massimo con le risorse di cui dispone e sempre disposti a migliorare i percorsi, a migliorare le frequenze, ma tenendo conto dei vincoli che abbiamo.